Perché salvare Melting Pot? Perché si impegna per la costruzione di una società più equa, più giusta, più libera e dai spazi e voce a tutte quelle persone a cui oggi i diritti sono negati. Perché da 25 anni è una fonte di informazione gratuita. Perché ha aiutato moltissimi migranti, ha aiutato moltissimi operatori. Perché dà voce a chi di solito voce non ne ha. Rete, che scambio di saperi, che informazione, dove più punti di vista interagiscono per un fine comune. Che la libertà di movimento sia un diritto riconosciuto a tutti. È un punto di riferimento per persone migranti, avvocati. Una grande comunità che in questi anni ha portato avanti tantissime battaglie. Per diffondere fatti autentici e non mere notizie. Aiutare Melting Pot significa permettere a chi ne ha più bisogno di continuare ad avere una voce. Adesso che Melting Pot ha chiedere aiuto è un dovere rispondere presente. Il tuo aiuto è importante. Salviamo Melting Pot.